Bella ragazzoli e benvenuti su questo nuovissimo video. Ragazzi, per caso avete intenzione di comprare una nuova skin molto fresh e molto trendy e allo stesso tempo supportare me indirettamente? Bene ragazzi, è possibile farlo e il procedimento è molto semplice. Basterà andare su negozi oggetti e cliccare qui in basso a destra supporto un creatore. Vi basterà scrivere semplicemente la parola Croatomist, che sono io, accettare e PAM! Il gioco è fatto ragazzi. Ovviamente ringrazio in anticipo a tutti coloro che decideranno di supportarmi ragazzi, siete i migliori e inoltre vi invito a lasciare un bel mi piace per questo video. Detto ciò ragazzi, bando alle ciance, ciance alle bante, godetevi il video e buona visione! No, no, ci sono, ci sono, ci stavo vedendo una cosa. Ok, non posso abitare perché... C'è il balconcino! Ok, non posso abitare perché... Ok... Eh, ho andato un attimo Discord raga, perché magari mi esce un bel game. Ok, non posso abitare perché... Grazie a tutti 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 Buildfight un tizio Sto buildfightando un tizio spiegando 2000 di materiale eccetera 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 Arrivo Di lanciarazzi Fa cadere tutte le costruzioni e si fa due kill Io perdo il game per quel motivo E lì non si parla di bravura Lì si parla proprio di Le scrim, le scrim, skirmish, tornei Significherebbe che se tu non trovi delle bounce, dei launchpad o dei lift portatili E qualcun'altro è un'altra differenza di un'altra differenza di un'altra differenza di un'altra differenza di uno svantaggio colossale Soncro di un'altra двигabile un'altra eh ma i palloncini non ci faccio niente con i palloncini cioè devo usare un devo spiegare uno slot nel mio zaino nel mio inventario per dei palloncini dove in un ipotetico torneo se ho i palloncini muori dopo un secondo che ho i palloncini perchè ti laserano in 5000 non ci faccio WTF? 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 Biasi canale! Grazie a tutti 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 Ok ragazzi Ho perso il game comunque Non importa Io lascio la win Non so come facciamo lui a vedermi in mezzo alla chioma degli alve O altra roba Questo probabilmente giocava da mobile Ti sei cagata però? No frega un cazzo Anche se avessi perso il game ragazzi stavo trollando Non mi interessava niente Non era neanche un game da canale 13 kill Ma cazzo ha fatto a vedermi lì Grazie a tutti Ma partiti in prefire questo ragazzi Cioè W-W-Toff Dai, avevo tappato pure gli shield Bro Lui non mi vedeva in questo momento Perché io non c'ero Come vedete io non c'ero Guardate i movimenti del personaggio Lui è fermo Così È un paletto di merda È proprio un paletto di merda Io adesso sono stato in launchpad Lui si è alzato Guardate il movimento Scattino di nuovo Io sono la ferma Guardate scatto dritto Dritto nel mio personaggio Proprio diretto ragazzi Diretto Pam pam Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti